E' stato fermato per rapina a mano armata in concorso Francesco, il 17enne di Mugnano, ferito ieri dopo aver tentato di rubare lo scooter ad un agente di polizia nei pressi di un supermercato. Il ragazzo si trova ora all'ospedale Cardarelli dove è stato operato e non è in pericolo di vita. Attualmente è piantonato dai carabinieri che si stanno occupando della vicenda. Una dinamica complessa quella della sparatoria. Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe avvicinato con un complice in scooter ad un poliziotto fuori servizio in uscita dal supermercato. I due avrebbero intimato l'agente di consegnare il ciclomotore, poi come se non bastasse hanno preteso anche il portafogli. A quel punto secondo le indagini l'agente avrebbe reagito esplodendo alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha colpito ad una coscia Francesco, il conducente dello scooter. I due sono poi riusciti a scappare mentre l'agente contattava i carabinieri. I militari dell'arma hanno poi potuto accertare che lo scooter guidato dal giovane aveva una doppia targa tipico modus operandi dei rapinatori. Ora dopo l'arresto del 17enne che non è in pericolo di vita è caccia al complice.